Ottima la musica di Feli, eh? Ottima, vero? Beh, che c'è di strano? Mi va di ballare? Qualche problema? No, per niente, mi sembra che hai una faccina troppo da bebè per il rock'n'roll Faccina da bebè? Ma per favore vieni! Che stiamo facendo? Balliamo? No. Che stiamo facendo? Tu con Simone, io con Melody. Che senso ha, Mar? Tiago, hai visto Valeria? Che ti prende? Stai bene? Mar mi prende. Melody non mi prende, questo non mi prende. Un'altra puntata della telenovela, raccontami. Si pari, ragazzi, non ce la faccio più con Jasmine. Insisto, insisto, ma non c'è niente da fare con lei. Che si fa? Preferite chiacchierare o metto una canzone? No, no, rischiamo di andare troppo in là. Non so più che canzone farvi ascoltare. A cosa ti riferisci per tema? Al mio tema principale? Il tema? Sì, però, a cosa vi riferite? Precisamente parliamo della stessa cosa, dello stesso tema. Allora, la vostra è un'età difficile. Taccio, stai crescendo, io lo capisco. Ti vedo sempre con la testa fra le nuvole, sempre a torsionudo, l'asciugamana attorno alla vita, sempre come se stesse per cadere. Proprio quando passano le ragazze. Non mi piace questo. No, 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 è vero. Non mi ne fai. Ho visto anche te, parecchie volte, sai. Sì, con una, con l'altra, con la figlia dell'imperatore, con la figlia, insomma, dell'ambasciatore. Non sai più che tu. No, no, Rama, no, Rama, non sei un angioletto, eh? Io ti ho visto, con Vale eri impazzito. Una volta, una volta. Guardate che io lo capisco, però vi chiedo solo che quando sarà il momento voi abbiate cura di loro. Io voglio che siate rispettosi, che le amiate. Io voglio che... E stiamo attenti. Mi avete capito, anch'io ci sono passato. Nico, rilassati, se ci capiterà sappiamo che... Sì, sì, se ci capiterà, magari. Taccio, taccio, lo stai implorando come un miracolo, come se dovessi vincere la compa del mondo, non è questo. Infatti, lo so. Ma vuoi dire che la storia con Simone ormai è finita? No, 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 però già Simone non va d'accordo con suo padre. Io meglio non parlarne e poi arriva Tiago che mi dice... Che cosa stiamo facendo, Marla? Ma perché questa storia adesso? Noi ci stiamo sbagliando, e come? Lo sai, no? Siamo fatti l'uno per l'altra. Tiago, non raccontarmi i frottole. Se sei qui per dire... Non parlarmi di questo, Tiago! Beh, è ovvio che sei cotta ancora di lui. Sì, quando siete insieme si sente tutta una musichetta. Sì, ma quella musichetta, semmai sono i borbottì che mi lascio dietro se lo vedo. Ti sbagli, Mar, fra voi c'è qualcosa e ci sarà sempre. Non mi torturate con... Guardate, se non mi lasciate con voi non... Devo pensare ad altro e calmarmi, e tu? Come?